Jessica, prima di essere uccisa, ha cercato di difendersi, ma io ho rigirato il coltello che aveva in mano contro di lei e l'ho colpita allo stomaco. È la spiegazione data al PM Cristiana Roveda e agli uomini della squadra mobile di Milano, da Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni è accusato di aver assassinato la 19enne Jessica Valentina Fauro e di aver cercato di bruciarne il corpo dopo che la giovane aveva opposto resistenza ai suoi approcci. L'uomo è stato trasferito in carcere la scorsa notte dopo un lungo interrogatorio nel quale ha confessato l'omicidio. Secondo quanto raccontato dal 39enne, non ci sarebbe stato un approccio sessuale, ma un litigio per futili motivi, addirittura la scelta di un film che può essere degenerata. Gli agenti della squadra mobile sottolineano che si tratta di un'unica versione impossibile da verificare. Garlaschi ha alcune ferite alle mani che sono state medicate dal 118 all'arrivo dei paramedici. Spetterà ad una perizia stabilire se si tratti di tagli da difesa oppure se l'uomo se li si è procurati durante l'aggressione. Abbiamo avuto una banale discussione. Lei mi ha ferito con un coltello, l'ho disarmata e l'ho colpita. Questa è l'avversione fornita agli investigatori dal tranviere. Uccisa nella notte tramate di e mercoledì accoltellate nell'appartamento dell'uomo in via Brioschi 93 a Milano, il corpo di Jessica è stato poi avvolto in maniera improvvisata nel celofan nel soggiorno dell'appartamento al secondo piano. Alcuni parti del cadavere sono state trovate ustionate. Garlaschi, infatti, avrebbe anche tentato inutilmente di dare fuoco al corpo per farlo sparire. Non ha avuto alcun ruolo nell'omicidio della 19enne invece la moglie di Garlaschi. Dopo molte ore di confronto in questura con il PM Cristina Roveda e il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi, la donna è risultata estranea all'omicidio. Poche ore prima dell'aggressione è uscita da casa per andare a dormire dalla madre. L'indomani, intorno alle 6, Garlaschi ha chiamato gli uffici ATM per comunicare che non sarebbe andato al lavoro perché è ammalato e successivamente è andato dalla suocera per riportare a casa la moglie e la madre di quest'ultima. Ha raccontato ad entrambe cos'era accaduto, assieme hanno chiamato l'avvocato, un collega sindacalista, il 118 e la polizia che hanno atteso in casa. La moglie di Garlaschi è descritta come una donna remissiva, disposta a chiudere un occhio sulle attenzioni del marito nei confronti delle altre donne. Per questo motivo, ipotizzano gli investigatori, la sera dell'omicidio lo ha lasciato da solo in casa con Jessica. La ragazza, con un passato familiare e tumultuoso, era arrivata nell'appartamento di Garlaschi rispondendo ad un annuncio su Facebook in cui offriva un posto letto in cambio dell'aiuto per fare le iniezioni di insulina. Pur avendo il padre dipendente dell'ATM, Garlaschi non l'ha conosciuta attraverso il collega. Intanto, il comune di Milano annuncia che si vuole costituire parte civile nel processo riguardante l'omicidio di Jessica. Stiamo facendo tutte le verifiche per poter far sì che il comune di Milano si costituisca parte civile nel processo la giovane brutalmente uccisa ieri in via Brioschi. Lo ha annunciato in una nota l'assessore alle politiche sociali del comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino. Una ragazza che i nostri servizi sociali conoscevano e hanno seguito fin dalla nascita. Si tratta dell'ennesimo femminicidio di fronte al quale non ci si può girare dall'altra parte, ha aggiunto. E anche per questo continueremo a investire risorse contro la violenza.